Ok amici, parlavamo prima, nell'altro spezione di video, dell'avionna, che è un passo tipico di Papi Tuala, l'abbiamo detto avion vuol dire aereo, quindi le ali di un aereo, e il brinco non salto. Abbiamo un altro passo molto caratteristico, si parla di capito, che lui chiamava avion con mano, perché praticamente questa volta noi, nel fare il passo base, dobbiamo slanciare le mani su e poi le portiamo giù. Quindi anche qui c'è una fotografia che avviene, qual è la caratteristica che l'unisce con l'avion con brinco, che anche qui poi ci sarà un giro a sinistra. Quindi praticamente che cosa succede? Dal passo base noi carichiamo, andiamo avanti con il sinistro, facciamo un piccolo plié, poi se lanciamo le mani diamo un calcio e poi queste mani le portiamo praticamente parallele al corpo. Quindi non deve essere una cosa veloce, perché sennò non si vede, ma è proprio una fotografia. E fotografia, a questo punto posso girare. A questo punto mi trovo in questa posizione, piegato sulla ginocchia, e qui praticamente vado a enfatizzare con un battito di mani i colpi 6 e 7, che sono, diciamo, parte della clave, 3 e 2. Pam, pam. Quindi pam, pam. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7. A questo punto che cosa succede? Ho diverse possibilità, quella che piace più a me è che muovo le spalle sui tempi 8-1, e poi vado a fare un brinchetto in avanti, ovvero tocco come se volessi dare un colpo di tacco, nemmo un pallone e vado col tacco. A questo punto vado anche con la mano, come se volessi con il macete tagliare una canna da zucchero, faccio questo movimento e poi mi torno indietro. Quindi, in pratica, mettendolo tutti quanti insieme, sarà 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ok? Quindi come vedete la cosa bella di questo passo è proprio il giro, la pausa, batto le mani, le spalle, brinco e poi ritorno. Lo rifaccio. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. E lo vado a fare con la pausa. Aviamo con mano. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 2, 5, 6, 8. E... Ok, adesso ripeto, abbiamo con brinco, abbiamo con brinco complicato, abbiamo con mano. Ok, cominciamo. Abbiamo con brinco, do, transizione, abbiamo con brinco complicato. Abbiamo con mano.